Carenza di organico al Palazzo di Giustizia di Caltagirone, nei vari presidi giudiziari e quindi nei tribunali minori, aventi sede nelle città, non capoluogo di provincia, oggi liberi consorzi. In relazione alla tematica che investe tutto il territorio della nazione, si registra una lieve schiarita, o per meglio dire che il Ministero sta prevedendo nuove assunzioni. A darne notizie la coordinatrice regionale del comparto giustizia della CISL, settore funzione pubblica, Valeria Lajacono. Si apre all'interno del Ministero della Giustizia un percorso a livello assunzionale. È chiaro che questa è una risposta alle enormi esigenze di carenze di organico che in questo momento ci sono alla giustizia. Evidentemente sono insufficienti, perché le carenze sono veramente enormi, di dimensioni estremamente ampie, per cui non bastano solo mille posti a concorso, di cui 200 riservati a personale che già è in altre graduatorie e 800 invece aperti all'esterno per assistenti giudiziari, amministrativi e contabili. Le sorti e la sopravvivenza del Tribunale di Caltagirone rimane pur sempre una questione delicata da affrontare, anche in considerazione della carenza di organico che affligge il Tribunale Calatino, che al pari di tanti altri presidi giudiziari minori, rimane pur sempre fra le sedi a rischio di soppressione. Noi chiediamo ancora di più al Ministero e ci auguriamo anzi che i posti messi a concorso e che resteranno eventualmente idonei in graduatoria possano poi essere valorizzati anche per il futuro, senza dimenticare però la necessità di una riqualificazione del personale. Oramai la figura del Cancelliere verrà trasportata nella terza area, per cui c'è anche un concorso interno per funzionari giudiziari, amministrativi e contabili, funzionari UNEP e pertanto saranno proprio loro i traghettatori di questa nuova realtà e di un miglioramento delle condizioni della giustizia. Ci auguriamo che il Ministro possa ascoltarci. Abbiamo il 2 dicembre un incontro a Roma sulla revisione dei profili professionali. Grazie. 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 Grazie.